Non nascondo che fa un certo effetto, perché io ancora ai banchi non li ho lasciati, perché sono al quinto anno dell'Università di Economia e nell'ultimo anno sono cambiate un po' di cose, perché ho avuto l'opportunità di partecipare a un corso che prevedeva, invece che il classico corso dove apri il libro e studia, era un corso dove ti dovevi mettere in gioco e c'era un progetto che dovevamo portare avanti, un progetto realistico che poi è stato anche implementato e da cui sono state tratte varie conclusioni anche che oggi portiamo avanti, con l'azienda Colfiorito. Io ero, per carità andavo a scuola, ho sempre studiato, non ho mai avuto problemi, ma mi ricordo che il primo giorno, non so se ti ho raccontato, il primo giorno che sono andato alla lezione e mi hanno spiegato come funzionava quel corso, io ho detto non lo farò mai, purtroppo avevo vari impegni, non era il mio tipo di impostazione, dovevo dedicarmici molto, però ci ho riflettuto un po' e poi ho detto ma mettiamoci in gioco, e alle volte buttarsi probabilmente fa del bene perché poi ho avuto questa opportunità. Questo corso mi ha portato poi a delle selezioni, eravamo vari gruppi, questi gruppi hanno fatto tutti dei progetti molto belli, che poi l'azienda Colfiorito ha scelto i tre più belli e chi vinceva questo corso aveva l'opportunità, e non è da tutti, di poter andare a fare dei colloqui con l'azienda. L'azienda per quanto qualcuno possa anche non conoscere, in realtà si scopre un'azienda importante, ma un'azienda che parte dalla terra, ma che dalla terra avvolge lo sguardo lontano, io ho studiato economia, ramo management, quindi un ramo piuttosto innovativo, e quando magari uno si associa a delle aziende che partono dalla terra, pensa a quanto magari ci può essere spazio, in realtà lo spazio ce n'è tantissimo, è un'azienda veramente innovativa, non ve ne ha parlato, ma magari lo scoprirete, o ne parli dopo, di quello che fa questa azienda a livello social, a livello media, eccetera. Quindi niente, abbiamo fatto questo colloquio, io con altri compagni, eravamo una ventina di persone, se non sbaglio, e da questo colloquio ne sono uscite due, e abbiamo iniziato questo percorso, ma è stato un percorso che sin dal primo giorno era un percorso serio, cioè il primo giorno, me lo ricordo, riunioni, coinvolte all'interno delle riunioni, ci vuole anche la fortuna di trovare magari delle aziende come queste, perché io non lo dico per captarsi o benevolenza, ma in realtà, nonostante avessi buone aspettative, mi ha comunque sorpreso. Cioè un'azienda che sin dal primo giorno ha dedicato tempo a me, che ero l'ultimo arrivato, e che probabilmente da qui a 17 di gennaio, chi lo sa, quello che poteva succedere, insomma. Quindi io ci ho messo tutto me stesso, ma anche loro hanno dato tanto a me, mi hanno fatto credere molto in quello che facessi, e quindi con l'impegno poi dopo uno dà sempre di più. Quindi è un'esperienza pratica per dirvi che molto spesso uno magari sottovaluta le occasioni che trova a portata di mano, che possono offrire dell'università, molti magari vanno fuori, vanno a Milano, vanno a Roma, insomma io ho scelto di rimanere in Umbria, ho scelto di mettermi in gioco, e sono riuscito a trovare un'azienda in cui io vedo futuro, insomma. Questo stage per me spero sia un punto di partenza, poi dopo avremo modo, l'intenzione è anche quella, insomma, che sia un punto di partenza, perché loro non hanno mai visto, come fanno molte aziende oggi, questo stage come l'opportunità di trovare un bravo ragazzo che fa le fotocopie. Ma bensì un ragazzo magari che poteva essere formato, poteva essere plasmato grazie alla grande esperienza dei colleghi miei e della proprietà, per cui sono cresciuto molto e questa esperienza fanno solo che bene. Quindi i contatti sono sempre molto importanti, molto più del voto che uno prende, quindi non scoraggiatevi eventualmente dei voti, eccetera, cioè ve lo dice uno che aveva presso 110 lode, ma sono il primo a non credere nel valore simbolico di quel numero, cioè quello lì è solo un numero. Le aziende che io reputo intelligenti e sane non guardano solo quel voto, ma guardano la persona che hanno di fronte. Io pensavo che fosse opportuno e curioso anche scoprire come una persona come me, che più o meno siamo quasi coetanei perché io ho 24 anni, in realtà è arrivata nel mondo del lavoro con relativa velocità e impegnandosi, quindi se voi vi impegnerete altrettanto, state tranquilli che se siete curiosi nella vita, se siete propositivi, tutto vi verrà dato, anche in un mondo in cui tutti vi dicono che il lavoro non lo troverete mai.